Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la RACE V2, VTX da 200mW per sistemi HD0. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la VTX, i cavi per il collegamento, dei gomini di riserva, alcune fascette e le clip per fissare il connettore UFL. Come potete notare non è presente nessun condensatore così come non è presente nessuna antenna, ma su questo ci torneremo più avanti. I fori per fissare la RACE V2 sono 20x20mm ed hanno i gommini soft mount, il foro del gommino è per VTM3. Le dimensioni della scheda tuttavia sono più grandi ed abbiamo un quadrato da 34x34mm. Il peso è di 6.6 grammi. I canali a disposizione sono tutti quelli della RACE BAND, dall'1 all'8, in aggiunta possiamo scegliere anche F2 o F4. Le potenze a disposizione sono 25-200mW, un po' pochi per gli standard moderni ma visto che questa VTX si rivolge al mondo racing possono anche bastare. La tensione in ingresso supportata va da 7 a 26V, quindi possiamo collegarle in linea diretta con lipo da 2 a 6S. Analizzando la parte superiore della scheda troviamo il connettore MIPI per la videocamera. A tal proposito dobbiamo usare videocamere compatibili con sistema HD0, come ad esempio la Foxeer DigiSight che abbiamo visto di recente, trovate la mia recensione in descrizione. Per bloccare il connettore ci vengono fornite delle fascette, noi dovremo inserirne una in questi fori. Ok, come vedete ho bloccato la videocamera FPV, il metodo è un partigianale ma comunque fa il suo dovere. Nella parte inferiore notiamo il connettore per l'antenna di tipo UFL, io direi di montare subito la clip. Grazie alla clip, in caso di strappi, il connettore UFL della VTX non subirà alcun danno. Su quest'altro lato troviamo i pad per il collegamento con il flight controller, il connettore per l'aggiornamento firmware della VTX e i pad per l'alimentazione. Questo piccolo connettore qua sotto serve per collegare il K-pad, nel caso avessimo problemi a configurare la VTX tramite USD. Visto che per funzionare il sistema HD0 necessita che la versione firmware della VTX coincida con la versione firmware del modulo, io direi di muoverci subito in questa direzione e procedere con l'aggiornamento. Dovremmo quindi scaricare il firmware dal sita HD0 e copiarla all'interno della microSD, poi inserirla nello slot del modulo. Dopo colleghiamo la VTX al modulo tramite cavetto e all'accensione il sistema aggiornerà la VTX in automatico. Il metodo è un po' macchinoso e non molto pratico, se la VTX avesse avuto una porta USB al posto di questo connettore sarebbe stata una cosa più intelligente. Ok, eccoci nella pagina download del sito HD0. Tutti i firmware dei moduli e delle varie VTX sono racchiusi nello stesso zip, quindi noi scarichiamo l'ultimo disponibile. Una volta scaricato l'archivio possiamo estrarlo. All'interno della cartella troviamo tutti i firmware della linea HD0, quello che ci interessa è il file racev2. Apro l'archivio e trascino il file bin nella radice della microSD. Ora faccio rimozione sicura dell'hardware e inserisco la microSD all'interno del modulo. Prima di aggiornare vi ricordo che è obbligatorio inserire un'antenna nella VTX, altrimenti questa si danneggerà irrimediabilmente. Come abbiamo visto dall'unboxing HD0 non fornisce nessuna antenna, quindi ne ho recuperato una da una vecchia cara VTX analogica. Molto bene ci siamo, ho inserito la microSD e collegato la VTX al modulo tramite cavo aggiornamento. Non mi rimane che alimentare il sistema per far partire in automatico l'upgrade. Quando sul display comparirà questo messaggio significa che l'aggiornamento è andato a buon fine e possiamo scollegare tutto. A questo punto saldiamo i cavetti che ci vengono forniti in dotazione seguendo questo schema e rispettando questi colori. GND e VCC servono per alimentare la VTX, la tensione in ingresso supportata va da 7 a 26V, quindi possiamo collegarle in linea diretta con lipo da 2 a 6 celle. Qui sotto abbiamo i pad T1 ed R1 che andranno collegati rispettivamente ad un RX e a un TX del flight controller. Possiamo usare tranquillamente qualsiasi WART libero abbiamo a disposizione e non necessariamente l'A1. Questo pad qua sotto è un pad che non ha nessuna funzione e al quale non andrà collegato nessun filo. Per finire abbiamo il pad SA per collegare lo SmartAudio. Visto che possiamo già cambiare qualsiasi impostazione della VTX con il collegamento tramite WART, trovo abbastanza superfluo e inutile avere un pad SmartAudio, infatti nel menu VTX possiamo cambiare canale, potenze e PID MODE anche senza SmartAudio. In questo video vi faccio vedere come collegarlo e configurarlo, ma a mio parere potete tranquillamente evitare di farlo perchè non serve a nulla. Ok, come vedete ho saldato tutti i fili seguendo lo schema che abbiamo appena visto. Ora non mi rimane che saldare i cavi nel Flight Controller. Perfetto, ho cavi saldati. Ho collegato l'alimentazione sul BEC a 9V del Flight Controller e T1 ed R1 su R3 e T3. Come sempre quando si parla di collegamenti su porte WART, RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Il cavo SmartAudio va collegato su un TX libero, io ho usato il TX4. Per quanto riguarda l'alimentazione vorrei aprire una piccola parentesi, ricordandovi come inizio video ho sottolineato che insieme alla VTX non viene fornita alcun condensatore. In linea di massima se il Flight Controller dispone di un BEC da 9V o 10V vi consiglio di usare quello. Allo stesso modo se avete una build a 6S avrete sicuramente un condensatore adeguato. Per quanto riguarda le build a 4S non sempre è necessario avere un condensatore, ed effettivamente potreste non averlo. Allo stesso modo non è detto che il Flight Controller che state usando abbia un BEC per la VTX. Come comportarsi quindi in questo caso? Leggiamo quello che dice il manuale. Anche se la Race VTX ha un circuito integrato di protezione dalle sovratensioni, un condensatore in parallelo con i cavi della batteria è obbligatorio per regolare l'alimentazione dell'intero quad. Questo non ci dice espressamente che la VTX necessita di un condensatore, tuttavia ci fa capire che è obbligatorio averlo. Quindi sorge spontaneo fare qualche considerazione. Prima di tutto se per usare questa VTX è obbligatorio avere un condensatore non vedo perchè non fornirlo, visto che comunque ci possono essere dei casi dove questo non è necessario. In secondo luogo avrei preferito una maggiore chiarezza del manuale, specificando bene se per questa VTX il condensatore è obbligatorio o no e in quali casi va usato. Chiusa questa parentesi possiamo passare a Betaflight. Per usare al massimo il sistema HD0 tramite CanvasMod è necessario avere Betaflight con versione 4.2.8 o superiore. Se avete una versione più vecchia il mio consiglio è di aggiornare subito. Iniziamo andando in port e spostiamoci nella UART dove abbiamo collegato TX ed RX. Qui attiviamo Configurazione MSP con velocità 115200. Ricordiamoci bene che UART abbiamo usato perchè ci servirà più avanti, come avete visto io ho usato la UART numero 3. Se avete collegato il cavo SmartAudio attivate VTX TBS SmartAudio in corrispondenza della UART nella quale avete saldato il cavo giallo, nel mio caso la UART 4. A questo punto spostiamoci nel tab CLI e digitiamo SET OSD DISPLAYPORT DEVICE uguale MSP SET DISPLAYPORT MSP SERIAL uguale 2 SAVE Quindi premiamo INVIO. Piccola precisazione su questo punto della stringa, ovvero il numero 2, qui dobbiamo mettere il numero della porta UART che abbiamo usato, meno 1. Quindi visto che ho collegato la VTX nella UART 3 ho scritto 2. Se voi avete collegato su un'altra UART, sottraete 1 e scrivete il risultato. Per concludere, per chi ha collegato il cavo SmartAudio è necessario scaricare la VTX Table dal sito HD0, quindi rieccoci nella pagina Download. Scorriamo verso il basso e nella categoria Utilities scarichiamo il file VTXTable.zip. A questo punto estraiamo l'archivio. Al suo interno troviamo le Table per le varie VTX, quella che interessa a noi è la Race. Ritorno su Betaflight nel tab VTX e clicco su LOAD FROM FILE. Quindi seleziono Race VTX. Ok, la VTX Table è caricata, posso salvare. A questo punto la VTX è configurata e pronta all'uso. Per accedere al menu VTX mandiamo contemporaneamente lo stick sinistro in basso a destra e lo stick destro in basso a sinistra. Qui abbiamo il piano controllo della VTX e siamo in grado di fare tutte le configurazioni come le possiamo vedere a schermo. Vi ricordo però che se avete attivato SmartAudio non potete accedere a questo menu, ma dovete configurare la VTX accedendo dal menu Betaflight come si fa per le VTX analogiche. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo dire che questa VTX si rivolge principalmente a chi sta assemblando un Drone Racing. I 200mW di potenza massima non permettono un volo su grandi distanze, tuttavia a mio parere potete anche valutarla se fate Freestyle in campo aperto senza allontanarvi troppo. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video.